L'equivalenza dei farmaci, quali sono i requisiti farmacologici e clinici che devono essere soddisfatti? È una domanda molto importante perché i farmaci una volta che sono immessi in commercio poi si deve valutare la loro efficacia, la loro tolerabilità e anche la loro safety e quindi bisognerebbe avere dei confronti tra le diverse classi di farmaci. Ci sono farmaci con diverso meccanismo d'azione, quindi l'equivalenza terapeutica qui è ancora più compressa perché poi ci sono anche delle associazioni tra farmaci come nel caso per esempio dei farmaci per l'epatite C oppure farmaci con stesso meccanismo d'azione che però possono avere diversa farmacocinetica cioè biodisponibilità e quindi un paziente risponde in maniera diversa rispetto ad un altro. Quindi l'equivalenza terapeutica dal punto di vista farmacologico diventa fondamentale per poi vedere qual è la qualità della risposta del paziente a diverse classi di farmaci. La società italiana di farmacologia già da tempo ha elaborato dei criteri per stabilire quali sono le evidenze farmacologiche e cliniche per stabilire appunto un'equivalenza terapeutica. Questi criteri non sono molto dissimili a quelli dell'AIFA che ha elaborato nel 2018 e quello che è importante è che tutti i criteri vengano soddisfatti. Quando alcuni di questi criteri non vengano soddisfatti secondo me bisognerebbe che si apra una discussione scientifica tra la società italiana di farmacologia e le società scientifiche cliniche del settore perché questo è un poema che non solamente per i farmaci dell'epatite C ma si applica a diverse aree terapeutiche in modo da valutare in maniera molto scientifica in quel che potrebbe essere l'equivalenza terapeutica che poi è importante per stabilire i costi di questi farmaci. La costa efficacia per esempio nel caso dei farmaci dell'epatite C è molto elevata perché sono farmaci che portano a completa guarigione del paziente quindi bisogna tenere conto anche di tutti quei costi indiretti che vengono evitati perché il paziente guarisce. Il documento che viene presentato quest'oggi costituisce un punto di partenza per cosa? È il primo caso che viene richiesta un'equivalenza terapeutica dalla regione Veneto all'Aifa. Ora il documento di oggi è stato elaborato in maniera indipendente da farmacologi e economisti. La società italiana è quindi interessata, molto interessata a vedere quali sono i risultati di questo documento perché dal punto di vista scientifico diventa importante vedere se effettivamente esiste o non esiste un'equivalenza terapeutica e la società ad esempio sta portando avanti dei progetti basati su una re-award evidence cioè vedere nel mondo reale quali sono l'efficacia e il confronto tra i vari farmaci perché se non c'è un confronto diretto testa a testa a volte è difficile stabilire un'equivalenza terapeutica. Questo è un progetto che noi stiamo portando avanti e che verrà poi tra l'altro presentato in un convegno a maggio della società nel Pharma Forum che si terrà a Stresa che questa è la tredicesima edizione e quindi noi vogliamo proprio dal punto di vista pratico fare delle proposte concrete per poi valutare anche l'equivalenza terapeutica o il valore aggiunto dei vari farmaci. Il farmacologo è fondamentale perché in tutta la finiera di sviluppo di un farmaco è presente sia nella parte pre-clinica-clinica e poi in tutta la situazione post-market e quindi importante nelle politiche di governance dei farmaci. Grazie.